diventerà una volta pure di andare in quei posti qua così però ormai sono qua e sono intrappolato però dobbiamo filmare lo scarico incriminato per sforza e da come sente proprio qua sotto quindi poi quella fattoria là che arriva fino a qua sembra impossibile però 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 qua si sono messi a fare un appostamento col cadrino e tutto qua c'è il tombino e qua sotto passa effettivamente e si sente anche senti eccolo dove arriva porca loca e viene fuori tutto da lì e passa qua sotto e passa qua sotto e scarica là ecco qua da dove scarica solo che lì non ci arrivo ma abbiamo scoperto grazie